Saronno Giovani La finalità è quella di creare momenti di svago, ludici, uniti anche a momenti che affezionino maggiormente i ragazzi a quello che è la cultura e quello che è l'essere cittadini in generale. Su questo abbiamo già proposto diversi eventi di cui adesso parlerà Umberto. Sì, come ha detto Matteo, Saronno Giovani nasce per sensibilizzare i giovani savonnesi su alcuni temi che stanno a cuore ai ragazzi della nostra età. Sino ad oggi abbiamo organizzato una serie di iniziative tra cui il 26 maggio 2012 un incontro sulla salute delle università in Italia e i test d'ingresso che hanno sicuramente un ruolo importantissimo nella nostra realtà studentesca. Su questi temi sono intervenuti l'onorevole Lara Comi e la dottoressa Veronica Mainini per spiegare concretamente cosa si sta facendo in ambito studentesco ma anche politico per quanto riguarda la scuola in Italia. Successivamente il 13 settembre 2012 abbiamo organizzato e promosso un torneo di calcio preceduto da una discussione sullo sport insieme al fisioterapista del Milan Giorgio Puricelli. E siamo riusciti con soddisfazione a riunire nel nome dello sport più di 70 giovani. E infine nel mese di gennaio di quest'anno abbiamo organizzato un incontro sulla sicurezza perché spesso i nostri amici, parenti e compagni ci dicono che non si sentono sicuri nella nostra città e volevamo appunto approfondire questo argomento. Soprattutto perché sui treni c'è questa sensazione di disagio sia fisica che verbale perché spesso molte ragazze sono state aggredite verbalmente e alcune sfortunatamente anche fisicamente. Su questo sono intervenuti l'ex assessore ai trasporti Raffaele Cattaneo, l'assessore alle politiche sociali e della sicurezza Giuseppe Nigro e il fondatore di City Angels Mario Furlan. I prossimi eventi che abbiamo intenzione di organizzare sono un pochettino più ambiziosi proprio perché cercheremo di trattare temi ancora più importanti per i giovani come la musica e il cinema. Da settembre con l'inizio dell'anno scolastico Saranno Giovani si è anche dotata di un proprio giornalino che funga da megafono per tutti i giovani. Questi numeri che sono mensili contengono una sorta di editoriale, di stampo più politico ma anche articoli scritti da noi stessi giovani sui temi da noi preferiti, lo sport, la tecnologia ma anche per pubblicizzare e far conoscere altri eventi del nostro territorio. Per chiunque volesse partecipare è possibile contattarci all'indirizzo email info-saronnogiovani.it e parlare con il responsabile di questa iniziativa Alex Alberio per proporre i propri articoli e i propri commenti riguardo a questa iniziativa. A distanza di oltre un anno dalla sua fondazione facendo un bilancio si può dire che Saranno Giovani è assolutamente inattivo e in positivo per quanto riguarda risorse umane e anche idee che sono scatolite in questi mesi. In questo momento siamo alla ricerca di una sede che abbiamo trovato e dobbiamo adesso sistemare un paio di questioni burocratiche. Una sede che vorrà essere per quanto possibile un punto di riferimento, un luogo di ritrovo per i ragazzi dove poter studiare, scambiarsi opinioni, divertirsi, fare di tutto. Come dicevo in questi mesi sono scatolite diverse idee e diverse proposte che sono state poi girate all'amministrazione comunale per far sentire in qualche modo la voce dei ragazzi in materia di sicurezza e di scuola. Passo adesso la parola a Umberto che parla delle proposte sulla scuola. Una cosa che vorrei sottolineare prima di parlare della scuola è una peculiarità un po' della nostra associazione che è quella di essere apolitica e apolitica. Proprio sul tema della scuola noi abbiamo voluto trattare questo argomento perché è un argomento che ci tocca in prima persona essendo tutti studenti. Siamo ancora tutti alle superiori, l'anno prossimo saremo all'università ma è un tema che c'è molto vicino e riguarda la nostra quotidianità. E proprio su questo durante un gazebo organizzato abbiamo raccolto le idee degli studenti e rielaborate in cinque proposte. Cinque proposte tra cui la sicurezza perché crediamo sia fondamentale tutelare la salute degli studenti. Secondo alcuni dati Istat nelle scuole esistono edifici che sono in parte pericolanti. Gli investimenti vanno ben ponderati in un momento di austerità come questo. Il rapporto scuole-aziende perché le aziende manifestano un certo disagio in merito ai giovani, ai nuovi studenti che arrivano alle imprese perché impreparati in determinati settori. Quattro i libri scolastici perché ogni anno aumentano come costo. E infine le lezioni. Noi chiediamo lezioni leggermente meno frontali ma come una sorta di partecipazione attiva anche degli studenti nel dibattito durante le attività scolastiche. Abbiamo anche trattato il discorso della sicurezza e la sicurezza come abbiamo detto è un tema che ci sta molto a cuore e Alberto vi spiegherà quali sono le nostre proposte per migliorare la nostra città e renderla più sicura. Analogalmente alla scuola anche per la sicurezza abbiamo elaborato i nostri cinque punti. In particolare rendere più vivo il centro di Saronno, coinvolgendo i negozi, lasciandoli aperti fino a più tardi in modo che la gente viva a Saronno e quindi la renda un posto più sicuro. Secondo è favorire i corsi di autodifesa o di aiuto psicologico. In questo vogliamo far notare che siamo riusciti anche a organizzare un'assemblea all'interno della nostra scuola con una dimostrazione di autodifesa e questa è stata positivamente accolta da tutti gli studenti. Terzo punto è dotare la città di più telecamere di sorveglianza. Infatti questo aumenta notevolmente la sicurezza percepita insieme a una forte illuminazione. Ovviamente un punto importante, fondamentale, è sostenere tutti i volontari che si impegnano in questo campo quindi tutte le associazioni, tutte le associazioni di volontariato che hanno come scopo l'aumento della sicurezza. Da ultimo una maggior presenza anche delle forze armate sul territorio, quindi la polizia cercando di dislocare i poliziotti impegnati in lavori di ufficio per farli andare sul territorio in particolare in quelle zone come Piazza Cadorna, Piazza De Gasperi e Piazza della Libertà. Proprio per raccontare quanto fatto dalla nostra associazione nel mese di gennaio e di marzo abbiamo deciso di andare in alcune scuole tra cui il liceo scientifico GB Grassi e il collegio Castelli per spiegare ai giovani che non partecipano direttamente alle nostre iniziative quali sono state le nostre proposte e quali sono stati i nostri eventi e soprattutto per affermare una cosa, che la nostra associazione non è aria fritta ma anzi cerca di fare qualcosa di concreto per la nostra città.